Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura. Torniamo ad occuparci della questione del senso unico a Via Curtoli. Attore del Greco questa mattina all'attenzione della Commissione Trasparenza, commercianti e residenti hanno esposto i loro disagi e le loro perplessità. Evitare assolutamente per quest'anno la didattica a distanza non usa mezzi termini il governatore della campagna Vincenzo De Luca che chiede una campagna vaccinale mirata per i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Spazio poi alla cronaca operazione congiunta di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale sul fronte dei reati ambientali nei guai è finito un imprenditore operante nel settore. Torniamo a Torre del Greco per parlare ancora dei disagi legati ai rifiuti in città, intensificati i controlli contro il sacchetto selvaggio. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Luigi Mele, questo ed altro. Guardiamo i servizi. La questione del senso unico a Via Curtoli arriva all'attenzione della Commissione Trasparenza. Questa mattina al Comune, commercianti e residenti della zona hanno esposto alla presenza dei consiglieri comunali dell'assessore Cinzia Mirabella e del comandante Salvatore Visone i loro disagi, chiedendo la revoca immediata del provvedimento o la valutazione di soluzioni alternative che non penalizzino chi vive e lavora in zona. Prima di prendere una decisione così drastica bisognava consultare, sentire in uno studio tecnico persone preposte alla sicurezza perché è vero ed è giusto che qualsiasi problema di sicurezza anche se di una sola persona che lo abbia posto vada valutato, vada risolto in una maniera migliore cercando di trovarla la soluzione che possa essere utile e giusta per tutti. Qual è la soluzione giusta e ideale per tutti? La soluzione innanzitutto è mettersi a tavolino e studiare quali possono essere, le fasce orarie, la scuola funziona a orari, il bambino vanno a scuola dalle 8 alle 9, poi usciranno dalle 12 e 30, dalle 12 alle 2, quindi quelle fasce orarie vanno tutelate, vanno salvaguardate con un semaforo magari e in quel tratto viene utilizzato il senso unico, unicamente in quella fascia oraria e in quel tratto di via curto basta. Si poteva, sicchete sempliciter, applicare il senso unico di via Curtoli giusto a Palazzo Torlo e il doppio senso dopo il ponte dell'autostrada fino all'incrocio. Io spero che l'assessore Mirabella si renda conto che il problema della sicurezza dei pedoni di via Curtoli non è un problema o una richiesta solo di tre mamme che accompagnano i figli a scuola a piedi, ma è un problema che riguarda 1500 bambini dei 5 plessi scolastici. Non si può immaginare di cambiare a tentativi sensi di marcia senza fare uno studio complessivo o anche diviso per macro aree che sia volto all'efficientamento di tutta la viabilità cittadina. Purtroppo però come in questo caso ma come in altri questa amministrazione va a chiamata. Basta che un comitato di interesse e potenziale bacino elettorale segnala una loro istanza che si interviene magari sbagliando e poi dopo si mette la toppa e spesso la toppa è peggiore del buco. È un provvedimento che non ha nessun senso logico e ancora oggi è stato giustificato che è un provvedimento di carattere esclusivamente politico voluto dal sindaco e voluto dall'assessore per evidentemente per motivi che non sono di interesse collettivo ma per problemi evidentemente personali. Questa mattina abbiamo visto rappresentanti dei commercianti, dei comitati di quartiere, delle associazioni di categorie, cittadini semplici delle zone limitrofe, residenti del posto, tutti ad alta voce, stanno chiedendo la revoca immediata di questo provvedimento perché è un provvedimento che allo stato attuale non ha senso perché non è stato contattato nessuno, non è stato chiesto, non è stato istituito nessun tavolo per capire i pro e i contro di un provvedimento come la logica vuole. In Commissione Trasparenza noi stiamo cercando di capire se c'è una soluzione alternativa a questo senso unico. Credo che ci sia, anzi il comandante sta appunto dicendo che ci potrebbe essere, ci vuole uno studio un po' più approfondito. Quale potrebbe essere questa soluzione alternativa? Potrebbe essere comunque un semaforo oppure chiudere la strada in determinati orari quando passano i bambini perché la prima, in primis, la sicurezza dei bambini, dei pedoni, deve essere al centro dell'attenzione di tutti. È un provvedimento sperimentale, ha spiegato l'assessore, e si valuterà la fattibilità dello stesso anche in vista della riapertura delle scuole. Siamo in una fase sperimentale, stiamo verificando la fattibilità di questo senso unico di marcia per la tutela del cittadino ma soprattutto per la tutela delle scuole che sono presenti lì sul territorio. Speriamo di poter migliorare la situazione proprio con la realizzazione in futuro dei marciapiedi. Il problema della sicurezza della strada tuttavia non è un problema di oggi, perché proprio adesso questo provvedimento? Abbiamo deciso di farlo dopo una segnalazione, diciamo, continua di diverse mamme che lamentavano proprio la sicurezza dei loro figli. Tuttavia per i residenti e le attività commerciali si stanno valutando degli accorgimenti rispetto a questo provvedimento. Siamo appunto raccogliendo quelle che sono le loro istanze, le valuteremo, se fattibili, se ovviamente non metteranno a rischio quella che è la sicurezza, vedremo di accoglierle. La priorità resta la sicurezza, tuttavia lo scenario che si profila vede un aumento del traffico, un peggioramento della viabilità. È stato istituito proprio in questo momento in cui le scuole sono chiuse, quindi diciamo c'è una meno affluenza in determinati punti della città, quindi è stata pensata proprio per dare il tempo ovviamente a chi pratica quelle strade di abituarsi anche di non creare disagi. Questa fase sperimentale per quanto tempo durerà? Durerà ovviamente fino a prima delle scuole, l'apertura delle scuole, poi successivamente verificheremo, avremo sicuramente fino a metà settembre, fine di settembre, continuare a essere senso unico. Riteniamo indispensabile per quest'anno evitare la didattica a distanza nelle scuole della Campania. Non usa mezzi termini il governatore Vincenzo De Luca. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi di socializzazione dei nostri studenti. Prosegue. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale sviluppare una campagna di vaccinazioni mirata per la fascia di giovani tra i 12 e i 19 anni. Secondo gli ultimi dati, fa sapere il governatore, La campagna vanta il primato nazionale per l'immunizzazione del personale scolastico, docente e non docente, che ha dato una prova straordinaria di responsabilità e senso civico e che merita il nostro ringraziamento. Ad oggi oltre il 95% del personale è immunizzato. Sulle attuali 220.000 adesioni alla vaccinazione di giovani tra i 12 e i 19 anni, il 75% ha fatto la prima dose di vaccino, il 41% anche la seconda dose. Le ASL sono impegnate a completare le seconde dosi entro l'inizio del mese di agosto. Resta il problema di 290.000 giovani di questa fascia che non hanno ancora aderito. Le prossime settimane dovranno essere dedicate prioritariamente a completare le vaccinazioni per l'intera popolazione scolastica. È del tutto evidente che bisognerà fare l'impossibile. ASL, pediatri, famiglie, per raggiungere questo obiettivo. A metà settembre si farà una verifica sulla situazione in tutte le scuole. È evidente che il mancato raggiungimento della soia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime. Studenti vaccinati in presenza e didattica a distanza per chi non è vaccinato. Ci auguriamo sinceramente, conclude De Luca, sia scongiurata questa ipotesi. Faremo di tutto per avere solo didattica in presenza. Operazione congiunta di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Municipale. Nei guai è finito un imprenditore operante nel settore edile e dello smaltimento di rifiuti. Eseguiti i sequestri per 3 milioni di euro. I Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, i finanzieri del comando provinciale e gli agenti dell'unità operativa tutela ambientale della Polizia Locale di Napoli hanno dato esecuzione su disposizione del Tribunale di Napoli, ufficio GIP, ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora in campagna di Nabruzzo, nonché di sequestro preventivo di beni del valore di 3 milioni di euro. Il destinatario della misura è Bruno Sansone, imprenditore napoletano del settore edile e dello smaltimento dei rifiuti, indagato per il delitto di omessa bonifica. Il provvedimento cautelare scaturisce da complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, sezione ambiente, nel corso delle quali sono stati sentiti anche responsabili del Ministero dell'Ambiente, della Regione Campania, della Città Metropolitana, del Comune di Napoli e del Genio Civile. L'inchiesta è scaturita dall'esposto di alcuni cittadini che hanno denunciato ai magistrati inquirenti le condizioni di degrado e compromissione ambientale del Vallone San Rocco, area sita all'interno del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Gli incessanti depositi di rifiuti hanno anche cagionato un grave rischio di dissesto idrogeologico. Bruno Sansone chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale della menzionata cava, che veniva tuttavia utilizzata per anni, quale sito di illecito smattimento dei rifiuti da costruzione e demolizione, contenenti anche amianto derivanti dalle attività delle proprie aziende. Non risultava aver mai ottemperato agli obblighi imposti per legge e relativi al recupero della cava, sostanzialmente sfruttata come personale di scarica abusiva. L'imprenditore ha indiziato del mancato adempimento dell'ordine di rimozione dei rifiuti, di bonifica e di ripristino ambientale della cava. In particolare, le attività investigative condotte dalla polizia locale e dai carabinieri del Noe hanno permesso di sequestrare la cava e di quantificare in almeno 30.000 metri cubi i rifiuti in essa accumulati. Sono stati anche sequestrati beni mobili ed immobili rientranti nel patrimonio dell'indagato. L'uomo è destinatario del provvedimento di divieto di dimora nelle regioni Campania e Abruzzo, nonché del divieto di esercitare attività di impresa o professione e di detenere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle aziende che operano nelle materie dell'ambiente e dell'edilizia. Il GIP ha altresì disposto alla sospensione di Bruno Sansone dall'iscrizione al registro dei gestori ambientali. Negli studi di TV City il consigliere comunale con delega ai rifiuti Luigi Mele in questi giorni si stanno intensificando i controlli contro il sacchetto selvaggio. Come sta andando? Sì, stiamo approfittando diciamo delle giornate lunghe e con i vigili urbani stiamo facendo controlli fino alle 24 in maniera tale da verificare chi va a sversare fuori dal posto che compete perché purtroppo ancora la gente non ha capito che a Torre del Greco esiste il porta a porta e devono pretendere la raccolta porta a porta quindi non devono fare in modo che anche chi raccoglie rifiuti perché molte persone mi hanno riportato che stesso chi raccoglie rifiuti chiede di fare i cumuli cosa che assolutamente non va fatta quindi io, questo è un appello che faccio a tutti i cittadini chiunque avesse questo tipo di informazioni sono informazioni sbagliate i rifiuti vanno depositati avanti alla propria abitazione con i bidoni, senza i bidoni qualsiasi sia la modalità che li tengono più opportuna magari ce lo fanno sapere e cercheremo di dargli una mano per poter conferire nei migliori dei modi A seguito di questi controlli sono state fatte delle sanzioni? Sì, diciamo che purtroppo le sanzioni sono tante che stiamo facendo a mi dispiace perché in questo periodo, non facilissimo per nessuno non è bello fare sanzioni però mi sono reso conto che solo così la gente si crea il problema e capisce che va affrontato diversamente sto venendo proprio in questo momento da un incontro fatto in via Trieste proprio perché a seguito di controlli lì su viale Campania dove sversavano un po' tutti quanti praticamente la gente si è ad essa convinta che non può sversare più in quel punto perché ha riscontrato più di una sera i controlli e quindi di conseguenza ci ha chiesto informazioni su come poter conferire i rifiuti presso le proprie abitazioni Quali sono le zone più critiche? Il piano industriale è fatto male è un piano industriale che non può funzionare per la città di Torre del Greco sicuramente in periferia dove ci sono gli spazi la cosa funziona e funziona anche bene infatti le lamentele sono pochissime chiaramente il problema più grande l'abbiamo nel centro dove ci sono un maggior numero di abitanti e gli spazi per poter conferire in maniera corretta sono pochi quindi sicuramente in un futuro, in un nuovo piano industriale si dovrà prevedere magari dei centri di prossimità nel centro come fanno un po' in tutti i comuni anche del nord con delle schede magnetiche, con l'accesso ai bidoni e cercare di conferire in maniera corretta chiaramente c'è un grosso lavoro da fare prima di tutto dobbiamo cambiare la mentalità io lo dico sempre ma non attaccando i cittadini per l'amore di Dio, molti cittadini torresi sono corretti e sono ligi al dovere molti altri invece purtroppo continuano a fare quello che vogliono non differenziano, buttano i rifiuti fuori orario li buttano nei posti in cui non vanno buttati per non parlare poi degli ingombranti sicuramente noi abbiamo le nostre responsabilità perché al momento abbiamo un punto di raccolta ingombranti che sicuramente forse è troppo piccolo per le esigenze che ha la città di Torre del Greco tanto è vero che ne stiamo realizzando a breve un altro in Viale Sardegna dove c'erano gli uffici comunali e un altro cercheremo di farlo quanto prima in Via Sant'Alea La Bruna anche lì dove era resistente prima l'ecopunto e anche lì cercheremo di organizzare un nuovo punto per raccolta ingombranti voglio rassicurare perché magari qualcuno si può subito allarmare per questa cosa sarà solo per la raccolta dei RAE, degli ingombranti e cercheremo anche di istituire un punto di raccolta di quei materiali inerti che chiaramente oggi la gente non sa dove buttare o che comunque deve pagare per poter smaltire In questi giorni la nostra emettente ha lanciato un sondaggio proprio rispetto all'argomento rifiuti per chiedere ai cittadini se si ritengono soddisfatti o meno della gestione di questa ditta quello che emerge è che oltre il 90% di coloro che hanno risposto purtroppo dice di no Allora sicuramente questa è una cosa che noi riscontiamo tutti i giorni tanto è vero che oggi pomeriggio abbiamo convocato con il sindaco, con l'assessore, con i consiglieri comunali capigruppo, con il dirigente, con il comandante dei vicini urbani con la consulta perché la consulta anche fa parte di quel gruppo di cittadini che rappresenta comunque i cittadini e quello che succede in città e abbiamo chiesto un incontro urgente con la ditta vista proprio la situazione, non dico di emergenza che si è creata in città ma la situazione sicuramente non sostenibile con questo caldo quindi oggi sarà uno di quegli incontri importanti nella quale la ditta ci dovrà dare delle risposte e spero che siano delle risposte corrette e giuste perché fino adesso abbiamo in qualche modo tollerato ma adesso non possiamo più tollerare da questo momento in poi inizieremo a ragionare in maniera diversa quindi la ditta dovrà rispondere ed eseguire quello che è previsto per contratto dove spazza non spazza bene dove raccoglie lascia comunque residui a terra in molti punti ancora i loro lavoratori dicono di fare cumuli e non di considerare il porta a porta quindi tutte queste cose la ditta non le deve fare e non gli sarà più consentito di farlo quindi da questo momento io spero oggi prima dell'estate di avere un punto di svolta perché poi da settembre in poi dovremo vedere una città sicuramente diversa con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani grazie a tutti